RICEVUTO Arrivano i rifornimenti, capo! E' marcha! RICEVUTO 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 Grazie a tutti. 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 Ecco fatto. Il Watchdog è K.O. Trova un punto d'accesso e inviami ciò che resta del database del sottomarino. Cercherò di capire che succede. Sì, signore. Grazie a tutti. So chi è l'agente al comando. Il nostro amico Miller. Emerson Miller. collaudato metodo Rodriguez. C'è una cosa funziona. C'è una cosa che funziona. Ragazzo, Miller è più pericoloso di quando si addestrava. Beh, anche io. Ricerca nemico annullata. Riprendere pattuglia normale. E' più pericoloso. E' più pericoloso. Grazie a tutti 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 Quello è Grazie a tutti 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 Colpisci Grazie a tutti 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 Un colpo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e le ricaricate su cominciamo merda Sì 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 Quanti agenzi da spie sul Cold Talker? Mi chiedo che cosa vogliono scoprire Sì 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 Oh, no. 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 Oh, no.